Ma buono, allora muovi tu come madonna devi fare, offri una frittura di pesce, agroppo, che dice pensate ci smacchiamo da lì, le parti, gli otti, fai il cazzo tu, solo tu devi portare 4.000 persone a votare. È ormai la frittura di pesce più famosa d'Italia, quella della battuta pronunciata da Vincenzo De Luca all'hotel Ramada il 15 novembre scorso, durante una convention con 300 sindaci invitati a sostenere il SIA al referendum del 4 dicembre successivo. Per quelle parole, registrate e diffuse su tutti i media, la Procura di Napoli apri un'inchiesta per istigazione al voto di scambio. Ebbene oggi, dopo sei mesi e dopo la sonora sconfitta al referendum, la Procura chiude con la richiesta di archiviazione. Nessun voto di scambio, niente processo sulla frittura di pesce. Secondo l'APM Stefania Buda, che con il procuratore Alfonso Davino ha coordinato gli investigatori della finanza, nelle frasi utilizzate dal governatore e anche in alcune sue condotte, non ci sono gli estremi di un'istigazione al voto di scambio, né di altri reati collegati alla normativa in materia elettorale. Le espressioni colorite utilizzate dal governatore nel corso dell'incontro con i sindaci avevano infiammato la campagna elettorale per il referendum, parole che tanto De Luca quanto Alfieri, che sarà presto il nuovo capo della segreteria del presidente, avevano liquidato come goliardiche. De Luca è fatto così, lo sanno tutti, dichiarò Alfieri in procura, sentito come teste il 3 gennaio scorso. Tutti lo sapevano, ma in quel momento di tensione collettiva per il referendum, che poi ha portato alle dimissioni di Renzi, la frittura di pesce divenne all'improvviso l'icona del male della clientela e del voto di scambio. Tanto che pure la commissione parlamentare antimafia, preseduta da Rossi Bindi, aprì un'indagine che De Luca liquidò così. Potremmo dire, diciamo in termini letterari, la ricerca del capitone perduto. Alla richiesta di archiviazione manca ancora il timbro del giudice, poi il caso della frittura sarà chiuso definitivamente.